ciao a tutti oggi prepareremo la vellutata di pere al moscato con mousse al gorgonzola il tempo di preparazione della ricetta è di circa 25 minuti gli ingredienti sono pere di tipo geyser acqua granella di pistacchi gorgonzola dolce ricotta cannella chiodi di carofano zucchero di canna succo di limone e vino moscato diamo il via alla ricetta mettiamo nel boccale le pere tagliate l'acqua lo zucchero di canna il vino moscato il succo di limone la cannella e i chiodi di carofano e cuciniamo per 12 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 la nostra vellutata è quasi pronta adesso con l'aiuto del cestello andiamo a scolarle dopo aver scolato le nostre pere andiamo a tritarle per 50 secondi a velocità 7 adesso aggiungiamo un altro po di moscato andiamo ad amalgamare per 20 secondi a velocità 3 la nostra vellutata è pronta andiamola a mettere da parte in dei bicchierini o in delle coppette adesso posizioniamo la farfalla e andiamo a mettere la ricotta e il gorgonzola e andiamo ad amalgamare per due minuti a velocità 3 e mezzo la nostra mousse è pronta andiamo a metterla dentro una sacca a poche e rifiniamo i nostri bicchieri bellutata di pere al moscato con mousse al gorgonzola grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti